Ciao a tutti, dopo aver parlato della serie A femminile, ecco, mi sono anche dimenticato nella serie A femminile ieri di parlare della nuova sigla, perché è veramente molto bella, devo dire la verità, è tornata la sigla cartoon, che è stata in formato animato, che è stata realizzata due anni fa per la serie A maschile, con le mascotte delle squadre di caccio, praticamente, piccolo appunto, ecco, piuttosto sarebbe stato bello vedere le due fisonomie delle due cacciatrici con le maglie delle due squadre che si affrontano, ecco, ma se no veramente una gran bella sigla, devo dire la verità, quest'anno il pallone è più bello nella serie A femminile, la sigla è meglio quella della serie A femminile, devo dire la verità, ecco, l'unica cosa è il trofeo, che sinceramente quel piatto lì veramente non è, che mi piace più di tanto, speriamo che prima o poi arriverà veramente una coppa, che naturalmente viene riconsegnata la stagione successiva, naturalmente per chi vincerà lo scudetto, e naturalmente anche una coppa per la serie B, che adesso andiamo ad affrontare. Allora, eccoci qui della serie B, che è iniziata anche questa, senza pareggi, e con tutte le partite dove c'è stato praticamente un gol in ogni partita, praticamente, quindi ci sono state solo vittorie, 23 gol segnati, è un bel buttino, naturalmente, e possiamo dire che le favorite non hanno deluso, naturalmente. Ecco, iniziamo praticamente dal big man, da uno dei big match, e parliamo di Verona-Lazio, che è finita praticamente 1-0 col gol di Papa Di Nava, al 73esimo minuto, praticamente è stato segnato questo, il gol che ha portato la vittoria della Lazio, diciamo su un Verona che comunque se l'è giocata, dobbiamo dire la verità, e l'altro big match era quello di Genova, tra Genova e Chievo, e Genova, veramente, rispetto alla Coppa Italia, ha vinto 2-0, e questo era un risultato che io non me l'aspettavo, io avevo dato X2, e purtroppo era meglio che dava 1-X, e diciamo la verità che forse veramente il Genova ha buttato, diciamo, nel cesso la Coppa Italia, e punta più che altro al campionato. ecco, comunque, vittoria del Genova per 2-0, anche qua, due gol tutti nel secondo tempo, al 65esimo Bargi, e al 78esimo Gile per il 2-0, ma grossa veramente ingenuità della difesa Clivens, devo dire, dopo un primo tempo, che era finito sullo 0-0. L'altra partita della giornata era il derby, naturalmente, emiliano tra Parma e Cesena, finita 2-1, naturalmente, per il Parma, grande favorita anche questo, alla Serie A, le reti sono state segnate dal 46esimo del primo tempo da Bale, e al settimo da Ambrosi, ecco, questi sono i gol che sono stati segnati, per il Cesena d'Auria al 31esimo del secondo tempo, praticamente nel 76esimo, ecco, vittoria comunque anche per il Parma, che quindi vince questo derby emiliano-romagnolo, e si candida nettamente alla promozione in Serie A. Le altre sfide, vittoria della Bologna all'estero, praticamente, in Terra Titania contro il San Marino Academy per 2-0, quindi inizia molto bene anche il campionato in Bologna, che ricordiamo quest'anno è il primo campionato di Serie B che affronta, le reti sono state segnate da Colomba e Gvadisek, quindi vittoria inglese nettamente per le Felsine, poi dietro le altre partite abbiamo la vittoria del Brescia sul Tavagnanco per 2-1, le reti sono state segnate al 41esimo da Teresa Facas e al 52esimo da Hielmann, ecco, per il Tavagnanco, che ricordiamo è stato ripescato, ha segnato Desati al 63esimo minuto, quindi dopo è stato il gol che ha riaperto la partita, ma ormai troppo tardi per riuscire nella rimonta. Goliada, Goliada naturalmente della Ternana, altri 5 gol per un totale di 10 gol, due domeniche per una Ternana che è veramente una macchina da gol impressionante, 5-0 contro il Genoa in Coppa Italia e 5-1 contro il Freedom. Les Cunio, ricordiamo, è grande spolvero di Valeria Pirone, che ha fatto la doppietta nettamente, è schievo anche, al 28esimo e al 36esimo, poi Vigliucci al 55esimo per il 3-0, poi c'è stato il gol di Pinna al 63esimo per il 3-1, accorcia le distanze, ma poi la Ternana la chiude prima con la batte al 76esimo e all'86esimo arriva il gol di Eleonora Pacciani. 5-1 veramente una grande prova di forza di una Ternana che veramente si candida a essere veramente una macchina da gol. Le altre due ultime partite sono la vittoria della Rezio su Ravenna Woman, l'avevamo detto, Ravenna quest'anno molto indebolito, doppietta di Nocchi al 5-3, al 5-0 minuto del primo tempo e al 48esimo, poi al 90esimo la rete di Tonnelli, per il twist dell'Arezzo. Andiamo dopo, andiamo, l'ultima partita è quella clamorosa, questa possiamo dire è una sorpresa, perché è la vittoria del Pavia in casa della Rezio Woman, che ricordiamo è l'S Rezio Roma, che adesso si chiama Rezio Woman. Pavia è in vantaggio con Dubini al 20esimo del primo tempo, anzi, doppietta di Dubini al 13esimo e al 20esimo del primo tempo, per l'Arezzo invece il gol al 63esimo di Vanessa Nagli, che ha riaperto la partita, comunque la rimonta finisce qui, grande vittoria veramente pesante del Pavia, veramente in quel di Roma sulla Rezio. Ecco, questo è l'unico risultato a sorpresa della prima giornata. Andiamo a vedere con la classifica, naturalmente si legge subito, chi ha vinto prende i tre punti, chi ha perso naturalmente i zero punti, ricordo nessun pareggio. Andiamo a vedere la prossima giornata, ricordiamo che anche la Serie B si ferma per la Nations League, essendo giocatrici delle nazionali straniere, e quindi anche la Serie B come la Serie A si fermano per le nazionali. Andiamo a leggere la prossima giornata, che dovrebbe giocarsi tutta le 15, anche questa, Bologna Resuomen, Cesena Brescia, Freedom Parma, Chievo Arezzo, Lazio Genoa, e questa è già scontro diretto promozione, Pavia Verona, Ravenna Ternana, e Tavagnaco Samarino. E' l'unico dire che tutte le telecamere saranno su Lazio Genoa. Per quanto riguarda la diretta televisiva, sono state fatte dei club, io ho visto un po' di... ho visto la partita tra Genoa e Chievo, naturalmente grazie al canale del Genoa femminile, e niente, quest'anno purtroppo non ci sarà un broadcast per la Serie B, ed è, come dico, un peccato, perché veramente è un bel campionato, quest'anno è un campionato veramente di livello, e l'abbiamo visto, dove ci sono state solo vittorie e non c'è stato nessun pareggio, al contrario di quello che succede praticamente anche nella Serie B maschile, dove praticamente ci si accontenta del punto, e invece qua proprio si gioca, si gioca, si gioca, si gioca per la vittoria in tutte le partite, ed è veramente un peccato che non c'è, un broadcast. Bene, io ho chiuso, ecco, abbiamo chiuso con i campionati, naturalmente, di Serie A e Serie B, e che dire, naturalmente io vi rimando a parlare di Nations League, ne inizieremo a parlare, vediamo anche domani, e parleremo di questa nuova competizione, che comunque rispetto a quella maschile, a tante, è molto più difficile, rispetto al torneo maschile. ecco, iscrivetevi a Gassi per il Giornal Pass Bar, lasciate un commento a queste partite, naturalmente dite la vostra su chi potrebbe, già andare in fuga, nella Serie B, e niente, io vi saluto, e vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti, ciao, e viva il calcio femminile!